La storia vuole qui! Via, via! Non fermatevi! Non fassi colpire! Via, via! Dentro, presto! Sergente! Sei circondato? Ovviamente! Sta bruciando tutto e la tua casa... Beh... È distrutta! Non mi piace fare questo! Ma se non vieni fuori... Immediatamente! Non mi assumo la responsabilità di cosa può succedere... A te... O a tuo figlio! Vecchio bastardo! Inseguiteli! È quel piano di fuga! Li abbiamo sempre alle calcagna! Sì, James, l'ho notato! Guida e basta! Che cazzo è quello? La reazione esagerata di Gene! Si chiama Voltur! Sexy, vero? James, attento alle bombe incendiarie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!